Cambio in vetta la classifica del Girone D Serie A2. La settima giornata sorrida al Monopoli che batte il Messina con un punteggio di 9-0 e aggancia il Soverato che non va oltre il pari tra le Muramiche contro un ostico Castellana. Sconfitta anche per il Canicattì che viene agganciato dal Bitonto, quindi quattro società ad un solo punto di distacco. Piano piano si fa sotto il San Michele con 12 punti e il Lamezia a 10 insieme al Mazzara. In zona play-out la Calabrese-Acri, questi i numeri. Monopoli-Messina 9-0, Canosa-Canicattì 8-5, Mazzara-Lamezia 6-3, Armerina-Bitonto 6-6, San Michele-Acri 4-3, Soverato-Castellana 3-3. Questa è la classifica. Monopoli-Soverato 14 punti, Bitonto-Canicattì 13 punti, San Michele 12, Lamezia-Mazzara 10 punti, Armerina 8, Agri e Castellana 7 punti, Canosa e Messina 6 punti.